La partita a scacchi di Marostica è una grande rappresentazione collettiva. Nel 2020 l'interruzione della partita è stata come spegnere improvvisamente la città. Purtroppo sono stato qui in zona il paziente zero del covid. Questa prima edizione dopo la pandemia sarà senz'altro un'emozione. Capo morto! Questo è l'anno più importante della città per noi, per tutti. Do un'occhiata al meteo, mamma mamma! La partita di quest'anno è una questione di vita o di morte. Grazie a tutti!